ExperSystem è una società tecnologica italiana specializzata nello sviluppo di software. Viene fondata a Modena nel 1989 da tre giovani studenti universitari appassionati di informatica, con il sogno di creare un software eccezionale. E solo qualche anno dopo arriva la svolta. ExperSystem vende a Microsoft una versione avanzata di Errata Corrige, il cosiddetto e ancora attuale correttore ortografico di Word. La ricerca non si ferma mai e con gli anni la società si specializza nello sviluppo di software che aiutano ad analizzare e gestire l'enorme quantità di informazioni non strutturate tramite un approccio semantico. Le sue soluzioni aiutano a ricavare informazioni strategiche, prendere decisioni migliori e sfruttare efficacemente i dati che emergono dall'analisi dei testi e dei big data. Il suo prodotto di punta è Cogito, un software che effettua l'analisi automatica dei testi con l'obiettivo di supportare aziende e organizzazioni governative nella gestione dei contenuti. Il 2014 è stato un anno importante per ExperSystem. 12 mesi fa la società si quotava in borsa sul mercato AIM Italia e nel luglio scorso è stata inclusa da Gartner nel Magic Quadrant 2014 dedicato alle soluzioni per la ricerca aziendale. È l'unica impresa italiana ad aver ricevuto l'importante riconoscimento internazionale. Oggi ExperSystem conta diverse sedi sia in Italia sia all'estero, tra cui Stati Uniti e Gran Bretagna. E tra i suoi clienti vanta nomi dal calibro di Eni, Telecom Italia e Intesa San Paolo.